Marta Bianco Mannino 32 anni stava gustando una cena a base di zucca nel nuovo appartamento di Robegano dove si era appena trasferita con il marito William. La serata tranquilla di sabato però si è trasformata in tragedia. Al risveglio la domenica mattina Marta ha iniziato a sentirsi accusando forti dolori addominali e nausea. I sintomi sono rapidamente peggiorati portando il marito a chiamare immediatamente i soccorsi. Nonostante l'intervento tempestivo dell'ambulanza e il ricovero all'ospedale di Mirano, Marta non è sopravvissuta, è deceduta poche ore dopo lasciando sotto shock la famiglia e l'intera comunità. L'autopsia ha confermato che la causa della morte è stata una grave reazione allergica alla zucca che la donna aveva consumato più volte nei giorni precedenti. Marta e William si erano conosciuti a New York e si erano trasferiti nel nuovo appartamento proprio il giorno prima dell'accaduto. Era stata quella la loro prima cena nella nuova casa che purtroppo si è conclusa in modo drammatico. Le allergie alla zucca seppur rare possono provocare sintomi variabili da lievi irritazioni a pericolose reazioni anafilattiche soprattutto in persone allergiche ad altre piante della stessa famiglia come cetrioli o zucchine. Grazie. 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 Grazie.